Un altro appuntamento tanto sentito dalla città, dai bambini, dalle scuole, insomma al Calcit si sta tutti assolutamente molto molto vicini. Sì, poi anche questa tradizione di presentarla nelle scuole mi sembra che sia una cosa bella per i bambini, per le scuole, ma oltretutto abbiamo ripreso una tradizione che le scuole sono sempre state vicine al Calcit e in questi anni andiamo direttamente a presentare il mercatino proprio nelle scuole. Ogni anno ovviamente è una, non c'è un ordine né di merito né cronologico, quest'anno siamo alla Curina che è una delle scuole più vecchie con cui ha collaborato il Calcit. Le nevoità esce ne sono tante, non ci sono novità eclatanti, però per esempio c'è l'ognomo falegname che quest'anno, che è un percorso che avete visto anche negli anni precedenti, che quest'anno faranno il lavoro direttamente lì. Poi ci sono sempre gli stand dei cinghialai, dei panificatori, dei masciai che bisogna sempre ricordarsi del sacrificio che c'è dietro a queste persone che poi magari il lunedì dopo devono andare a fare un'altra. Sì che diciamo tante cose che poi le scopriremo anche domenica. A livello di donazioni mi sembra che già ci lasciamo alle spalle dei bei puntini sulle i, ma ovviamente gli obiettivi sono grandi. Sì dunque, intanto le donazioni che abbiamo fatto devono avere una sua inaugurazione ufficiale e la faremo. Abbiamo messo in evidenza questa strumentazione di avanguardia nella prevenzione del temore al seno che è la tomosintesi. Pensate che in pochi centri pubblici, magari i privati ce l'hanno, ad Arezzo è già funzionante. Perciò anche qui faremo, anzi prendo l'occasione perché il 23 di maggio ci sarà un incontro presso la prefettura con le donne aretine e tutto il gruppo della mammella della US. Perciò parleremo del percorso e anche di questa strumentazione che fa fare un altro passo avanti importante per la prevenzione del temore al seno. Grazie.